Ciao ragazzi, vado a mostrarvi adesso un'esercitazione propedeutica alla guida della palla. Andremo a sensibilizzare interno piede, esterno piede, collo piede e pianta del piede. Tutte parti con cui possiamo guidare la palla. Prima ci alleniamo sulla quantità di tocchi, quindi andremo a lavorare sulla ripetitività del gesto. Più volte tocchiamo la palla con la parte del piede, più saremo bravi e più avremo la parte sensibile per essere più efficaci in partita. E poi lo andiamo a fare in guida della palla. Ricordatevi, partiamo sempre dal facile per poi fare tutte le gestualità a mano a mano, sempre più velocemente. Guardate. 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 avete visto le gestualità le andiamo prima a lavorare sul posto per sensibilizzare e imparare a toccare la palla con quella parte del piede per poi andare a lavorare in guida della palla ed essere brevi ed efficaci in partita per andare a guadagnare ciao ragazzi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi commentatemi e lasciate un like ciao a tutti